Buongiorno a tutti, bentornati alle interviste del giorno dell'Alto Adige. Oggi siamo qui per raccontarvi una storia, una storia di viaggi, di viaggi particolari, qui con il signor Beppe che da 32 anni va in mezzo al deserto, letteralmente, a fare i suoi viaggi. Quanto sono cominciati questi viaggi? Nel lontanissimo 1980. E la domanda che si fanno tutti, come le viene di andare da solo in mezzo al deserto? Primo perché non viene nessun altro. No, a parte gli scherzi. E' piacevole andare da soli. E' una dimensione diversa della solita, come si può dire, della solita esperienza fatta con altre persone, peraltro più o meno carine, insomma, o più o meno funzionali alla cosa. E' avventura pura e semplice, perché diciamo che è lei da solo con la sua jeep in mezzo alle dune. Insomma, tutta la vita è un'avventura, quindi non credo che questa lo sia poi molto di più alla fine. E' abbastanza avventuroso, sì. Dipende quanto tu lo vuoi rendere avventuroso, cioè quanto rischio ci vuoi mettere dentro, essenzialmente. E lei quanto rischio ci mette? Sufficiente per sopravvivere con una certa facilità. Beh, se è arrivato al 32esimo viaggio vuol dire che è sopravvissuto sempre? Evidentemente sì. Situazioni particolari di rischio o di non rischio, insomma, situazioni che l'hanno messa in pericolo, ne ha vissute? Ma sì, qualcosa, ma non poi tanto quanto uno possa immaginare, in quanto percorrendo essenzialmente il territorio, quindi con una notevole distanza rispetto alla civiltà locale, diciamo, anche gli incontri sono assolutamente improbabili o quantomeno rarissimi, insomma, per quanto riguarda le distanze e il rischio dell'ambiente stesso, che ti presenta l'ambiente stesso. Altro, sono un paio d'anni che non ci vado, proprio per questioni di guerriglie, queste cose qua, ma si evitano anche quelle zone, insomma. Direi che sarò lontano almeno un migliaio di chilometri da dove c'è la rogna adesso, segnatamente nel Mali. Anche in altre zone, ma quelle molto più lontane ancora. È evidente che qualcosa potrebbe anche succedere, però dappertutto. Mi posso schiantare anche lungo l'autostrada e col fuoristrada, il rischio non è calcolabile in questo senso. E comunque bisogna avere paura delle paure vere, cioè, per esempio, il rischio secondo me più elevato che corro è quello di ammalarmi di una malattia relativamente grave, ma che io non posso risolvere lì, e quindi, però, può avvenire anche un infarto a letto, insomma, e quindi ciccia. E problemi tecnici? Se la macchina la dovesse abbandonare lì in mezzo? Beh, innanzitutto prima di abbandonarla mi taglierei le vene per lungo. Povera, che non si chiama macchina, ma si chiama rino, come rino ceronte, perché non si ferma di fronte a nessuna difficoltà. Piano, piano. La riparo, insomma, ciò che non è riparabile non la riparo, evidentemente. E quando non è riparabile la vengono a prendere? Telefonerò a qualche amico fidato, con un telefono satellitare, anche perché sarebbe un suicidio a andare senza, e quindi, poi, nel caso, aspetterò che mi raggiungano, con fiducia, con incredibile fiducia. Ultima domanda e poi la lascio andare. E quindi sono 32 anni che la sua famiglia la lascia partire per andare in mezzo al deserto da solo? Non mi sono mai posto la questione, se posso o non posso farlo. Grazie mille, allora, e buon viaggio. Grazie, molte grazie. Grazie.